e sono passati un po' di anni e siamo veramente felici di riaverti qui con noi eh Lauro per chi non ci conosce il nostro network relazionale che promuove attraverso incontri culturali la conoscenza di nuove persone io mi auguro presto di poter ritornare in presenza perché quello è un modo che ci consente davvero di fare networking per quanto riguarda chi fosse interessato a saperne di più del nostro network non vi sto ad annoiare potete scrivere in chat la nostra vicepresidente Alessia vi può dare delle informazioni anche indicare dove potete dove siamo presenti in quali canali facebook e sito web quindi il tema di questa questa sera è come esercitare la leadership positiva allora ognuno di noi è chiamato ogni giorno a raggiungere i risultati attraverso il lavoro di altre persone esercitando più o meno consapevolmente forme diverse di leadership si sente sempre più parlare di leadership positiva ma che cosa vuol dire esattamente ebbene adesso ne parliamo con lauro venturi lasciatemi introdurre l'ospite lauro venturi a 65 anni vive in collina tra modena e bologna e manager fondatore consulente scrittore per favore mettete in muta se potete l'ultimo suo romanzo è la vita dirà la sua è stato ceo in diverse aziende di servizi di produzione l'ultima avventura ma generale è durata sei anni in un'azienda leader mondiale nel settore dell'inrigazione il ricambio generazionale ai vertici realizzato attraverso l'assessment la formazione di persone già occupate in azienda rappresenta la sfida principale affrontata e vinta la revisione dell'operation della supply chain della logistica insieme all'introduzione di un nuovo sistema erp rappresentano altri punti vincenti di questa esperienza in precedenza è stato commissario straordinario di un'organizzazione prossima al fallimento toccando con mano le problematiche di una profonda ristrutturazione e di un altrettanto profondo ripensamento altre esperienze significative sono la conduzione di un'azienda di informatica di un importante progetto di knowledge management alla fine del 2008 per un paio di anni ha lavorato nel settore della finanza che era nel pieno della sua crisi all'attività manageriale ha sempre fiancato quella di formatore consulente il suo percorso formativo intreccia gli argomenti classici dell'economia aziendale e le tematiche più soft nel 2006 ha ottenuto un dottorato in psicologia sociale e il diploma di cancellor ed è anche coach quindi il suo motto è orientamento al business e sincero interesse per le persone è autore anche di diversi libri e con noi ha realizzato nel 2012 un ebook sul mercato dell'idea una raccolta di diversi autori ospiti di all top lascio a te la parola la buona presentazione grazie cristina grazie con affetto a tutti voi ricordo perfettamente quella serata in quel bellissimo locale nella piazza più importante che avete a verona era un momento anche conviviale e mi associo a te nell'augurare a tutti noi di poterci vedere di persona e abbracciare perché abbiamo credo capito in questo anno e mezzo quanto valga quel metro di distanza che dobbiamo tenere noi parliamo di leadership positiva e cominciamo in modo leggero perché abbiamo tutti una giornata di lavoro alle spalle e in un paese piccolo in tutti i paesi piccoli c'è sempre qualche persona un po' strana e allora nel mio paese piccolo c'era un personaggio che si chiamava Remo e girava per le vie del paese e per la piazza tirandosi sempre dietro una corda allora il furbo del paese altra figura caratteristica in modo un po' sarcastico gli disse ma scusa Remo perché ti tiri dietro la corda e lui lo fulminò con una risposta straordinaria prova tu a spingere la corda ecco che allora questa che era la barzellette che poi è diventata anche una metafora ci introduce nel mondo della leadership noi possiamo spingere i nostri collaboratori a lavorare ma non possiamo spingerli a lavorare bene a lavorare con responsabilità a lavorare al di là del compito ma lavorare per raggiungere insieme a noi gli obiettivi quindi noi li dobbiamo condurre ecco la radice anche etimologica di leadership in che modo attraverso una visione attraverso un'idea che condividiamo con loro attraverso degli incentivi quindi la leadership è un modo per condurre delle persone verso obiettivi condivisi non le possiamo spingere perché se li spingiamo li possiamo spingere a rompere dei sassi li possiamo spingere a spingere un bottone ma non li possiamo spingere a lavorare volentieri e questo è molto importante il titolo che ha scelto all top ha una secondo me una connotazione positiva e una che invece contesterò ma contesterò ai fini della vivacità della lezione ovviamente con una contestazione amichevole ecco quella positiva è che non si è usata la parola leader ma si è usata la parola leadership e questo guardate è costitutivo perché la leadership richiama in noi la leadership richiama la collettività richiama il gruppo non richiama l'individualismo quello che invece per scherzo contesto è l'aggettivo in quanto per me non ce n'è bisogno leadership punto perché se metto leadership positiva devo lasciare intendere che esista anche una leadership negativa invece io non penso che possa esiste una leadership negativa ovvio io so che fidel castro e hitler quindi due personaggi agli antipodi ma con anche alcune similitudini hanno avuto le folle che li seguivano però non erano leader perché erano persone che avevano un controllo psicotico su tutti a cuba c'era la spia di dalla scala del condominio che diceva se uno era gay se uno frequentava certi amici americani o meno quindi avevano un'ossessione del controllo di cosa veniva scritto di cosa veniva pubblicato di cosa veniva detto avevano una totale mancanza di empatia e non volevano dei collaboratori ma volevano dei sudditi quindi un leader non può volere dei sudditi ma deve volere dei collaboratori che anche perché no diventino più bravi di lui quindi ho fatto questo giochetto prima con Remo che la corda si può solo tirare non si può spingere e poi questo tema della leadership versus leader e del positiva versus negativa vorrei fare un salto indietro di 200 anni circa per andare a Gustave Lebon che non è un cantante Gustave Lebon era un antropologo uno psicologo e un sociologo francese e nel 1800 ma credo 95 giù di lì diede alle stampe un libro bellissimo che si chiamava psicologia delle folle allora tra folle e persona folle c'è un'assonanza forte quindi la folla non è mai e in questo bellissimo libro che consiglio a tutti perché è ancora una pietra migliare delle dinamiche che le persone esercitano lui mise l'accento sulla forza di distruzione della folla diceva attenzione la folla se non è guidata distrugge sull'assenza di disciplina che è impossibile una folla rendere disciplinata ma soprattutto aveva messo l'accento sulla mancanza di una visione d'insieme lo stesso Freud 40 anni dopo 30 anni dopo più o meno dà alle stampe la psicologia delle masse e dell'analisi dell'io e quindi comincia a studiare il rapporto tra l'individuo e la folla ovviamente Freud aveva messo molto l'accento sull'investimento libidico nei confronti di queste figure che lui diceva sono amate ma sono anche temute e descrisse in questo libro la figura del grande padre che ognuno di noi sente come giudizio delle cose che fa e che spesso si crea anche in autonomia questo grande padre per poi dare l'avvio a tutto il tema della psicanalisi. Per concretizzare quello che ho appena detto vorrei che immaginaste tre posizioni, tre ruoli chiamiamoli così l'individuo, la folla e in mezzo il gruppo. Poi provate a ognuna di queste figure ha due cerchi uno è la testa e uno è la pancia ovviamente per sintesi la testa è la parte più razionale e la pancia è la parte più istintuale. Va da sé che la folla lo capisce anche un bimbo ha il cerchio della pancia molto grande e il cerchio della testa per quello che dicevamo prima molto piccolo. L'individuo tendenzialmente è ipertrofico nel ragionare e tende ad avere poca educazione emotiva e quindi tende ad avere l'opposto il cerchio della testa molto grande e il cerchio della pancia piccolo. Qual è l'unità organizzativa che lega questi due estremi? È il gruppo. Ecco perché la leadership è strettamente connessa al gruppo perché il gruppo compensa le teste compensa le panci quindi è l'unica figura che ha i due cerchi abbastanza identici. Quando parliamo di gruppo l'autore di riferimento qui non c'è dubbio è Kurt Levin anglosessone per la verità americano ma non c'è altrettanto dubbio che in Italia i T group i training group vengono portati dal professore Enzo Spaltro che è anche il padre della psicologia del lavoro in Italia e io penso anche in Europa. Enzo Spaltro se n'è andato 15 giorni fa bene perché aveva quasi 92 anni e morto nel sonno sereno. Io ho avuto la fortuna di lavorare tanto con lui e di essere anche non dico amico ma un ottimo conoscente tant'è che nell'ultimo libro mi ha fatto la postfazione uno degli ultimi lavori che ha fatto e se andate in rete trovate anche l'ultimo contributo visivo gli ho fatto un'intervista proprio sul libro e quindi mi fa piacere dire che ho avuto anche questo maestro tra i tanti che ho appunto avuto. Tornando a parlare di leader quindi abbiamo visto Le Bon poi abbiamo visto Freud e poi abbiamo visto un po' Levin mi piace risalire a Machiavelli, Machiavelli il principe, qua siamo nel 1500-1535 più o meno e lui dice che il leader è colui che si assume il grande impegno di fare l'Italia e sottolinea il rischio e la difficoltà che c'è nell'esercitare il ruolo di guida. Quindi fa un salto avanti Machiavelli dice attenzione il leader costruisce perché dice si prende l'impegno di fare l'Italia e attenzione in questo c'è anche un rischio credo che tutti voi ricordiate se non lo ricordate ve lo consiglio il libro di Vasquez Montalban che si chiama La solitudine del manager non è un libro di management un bellissimo romanzo ma serve per dirci che il leader vive anche una dimensione di solitudine perché non può sempre socializzare le proprie responsabilità. In questa carrellata ci deve andare per forza dentro Platone perché deve andarci dentro Platone? Perché non inventiamo nulla noi del management, non è una scienza che inventa dal niente semplicemente prende da tanti orti e cerca di fare una macedonia, un'insalata che sia interessante e Platone dice una cosa interessantissima sulla quale rifletteremo dice vi è chi essendo nato e formato perciò deve comandare, governare e guidare gli altri con un criterio di utile comunitario collettivo verso il quale è responsabile direttamente. Che potenza in queste parole? provate a pensare, il leader ha un criterio di utile comunitario e ne risponde, cioè vuol dire che questa storia che ha degenerato la politica dei partiti personali, di queste facce sui manifesti, è ridicola, durerà dieci anni poi evapora perché il leader deve avere questo senso collettivo, questo senso dell'interesse superiore in più Platone ci introduce in una questione fantastica perché dice che il leader in parte è nato e in parte è formato quindi risponde già più di duemila anni fa alla domanda ma leader si nasce o leader si diventa? e allora io la sintetizzo Platone non me ne voglia dicendo che se si hanno alcune attitudini dalla nascita si è più facilitati ma sicuramente si può apprendere la leadership non attraverso dei fretti manuali di management ma attraverso anche esperienze emotive, esperienze che non siano solo di tipo razionale. Lassiamo Platone dopo dieci minuti del mio intervento lo salutiamo perché gli dobbiamo sempre essere grati perché ci ricorda oggi la Grecia è il paese più distrutto dell'Europa, più maltrattato, più violentato ma ricordiamoci che la nostra civiltà nasce da lì e quindi duemila anni fa noi eravamo ancora con le pelli di capra addosso e loro avevano fatto delle elaborazioni teoriche che supportano ancora tutt'oggi il nostro setting mentale se ci mettiamo nella sociologia perché il campo sociologico è più affine all'impresa noi possiamo dire che il primo che parla di leadership è Max Weber questo invece è un sociologo ed è tedesco e lui dice che la leadership è l'attribuzione a una persona da parte di una collettività quindi c'è un concetto di delegazione tu stai gestendo una leadership pro tempore e perché io te l'ho data e come te la do te la tolgo quindi è l'attribuzione a una persona da parte di una collettività di qualità ritenute eccezionali quindi Weber dice che il leader deve svettare un pochettino tant'è che lui poi introduce il concetto di carisma che può essere un po' fuorviante oggi per realizzare una missione collettiva di grande importanza cioè di nuovo il leader ci tira, vi ricordate Remo con la corda? ci tira verso obiettivi sfidanti, ci tira verso una visione, ci fa venire voglia di seguirlo ci fa venire voglia di rischiare con lui, ci fa dire ne vale la pena fare queste cose e lavorare benissimo abbiamo toccato ovviamente sempre in modo molto non superficiale io preferisco dire sintetico poi le domande ci permetteranno di andare più a fondo facciamo un po' un salto quantico adesso e andiamo al modello della leadership situazionale descritta da Hersey e Blanchard in un loro libro del 1984 molti di voi l'avranno letto, è un libro che vi consiglio perché dice leadership situazionale, il titolo come valutare e migliorare la capacità di gestione e degli uomini credo l'abbia Edito Sperling e Kupfer comunque lui fa un ragionamento molto bello perché dice il leader deve cambiare a seconda delle situazioni e quindi ecco perché parla di leadership situazionale e collega in maniera molto intelligente il concetto di leadership al concetto di delega e dice in quella famosa sinusoide che è sulla copertina di questo libro quando tu hai un collaboratore che inizia a fare una cosa quindi la delega tu non puoi che essere direttivo quindi devi essere un leader direttivo addirittura tu lavori e l'altro ti guarda mentre lavora mi vengono in mente le botteghe del rinascimento tanto per fare un esempio poi c'è il momento perché la delega non è un evento ma è un processo nel quale io gli insegno facciamo insieme una certa cosa quindi io devo ridurre la mia leadership di tipo diciamo così direttiva e devo inserire elementi di leadership più coinvolgente fino a quando arriviamo alla terza fase perché la prima è che io facevo e lui mi guardava la seconda è che facevamo insieme la terza è che lui fa da solo il mio allievo diciamo guardate che può essere anche un ragazzo che inseriamo nella direzione del personale nel marketing dove volete quindi non prendete solo non pensate che valga solo laddove costruiamo un manufatto anche dove lavoriamo su un intangibile questo è vero nella terza fase la persona fa e noi la osserviamo però fa tutto lei vedete che cala ancora di più la leadership direttiva e aumenta di più quella di coinvolgimento fino alla quarta fase nella quale lui fa da solo noi non ci siamo e viene da noi solo per eccezione quando c'è qualcosa che non torna o quando ha dei dubbi quindi Hersey e Blanchard hanno il pregio di collegare la leadership situazionale al concetto di delega sono un po' didascalico ma lavorare con internet ci obbliga a essere abbastanza schematici perché non si riesce a utilizzare tutta la comunicazione non verbale che l'incontro diviso invece permette vent'anni prima altri due grandi autori voi sapete che tutta questa storia della psicologia del lavoro nasce intorno al 1950-60 prima come il marketing perché nascono allora perché comincia a esserci del reddito disponibile anche oltre i bisogni fisiologici quindi si comincia a dire le persone le dobbiamo anche curare non solo occupare e sono Blake e Monton questi qui nel 1964 provate a pensare al linguaggio costruiscono una matrice fantastica dove in un asse mettono l'orientamento loro lo chiamano al dipendente e nell'altro asse mettono l'orientamento che loro chiamano alla produzione cioè il linguaggio del 64 va preso per il linguaggio del 1964 voglio dire però ecco che mi ricollego al mio primo libro che già citava nel motto Cristina che si chiama l'educazione sentimentale del manager e ha una delle due sezioni che è orientamento al business e sincero interesse per le persone quindi ciò che Blake e Monton chiamano l'orientamento al dipendente io lo chiamo sincero interesse per le persone ciò che loro chiamano produzione io lo chiamo orientamento al business se noi facciamo la classica matrice chiaramente un leader che ha poco orientamento al business e poco orientamento alle persone loro lo chiamano stile di leadership povero io dico non c'è neanche la leadership e poveretta quell'azienda che guidate da una persona che ha poco orientamento al business e poco orientamento alle persone lasciatemi fare un inciso anche l'attenzione ai soli numeri di bilancio è uno scarso orientamento al business perché il dovere morale di un leader è generare profitti sostenibili nel tempo non in modo speculativo quindi anche quando vedete un manager molto attento al numero all'ultimo dato in fondo al bilancio ah dice questo è l'orientamento al business no questo sta uccidendo l'azienda perché l'orientamento al business significa un giusto rapporto tra ciò che introiettiamo e ciò che reinvestiamo significa una visione di lungo termine significano tante cose quindi abbiamo detto uno che ha poco orientamento alle persone poco orientamento agli obiettivi è uno stile povero viceversa un leader come io credo dobbiamo essere noi molto attento alle persone molto attento al business è il capo squadra è il capo gruppo è colui il quale ottiene risultati come diceva bene prima Cristina col lavoro degli altri non necessariamente va in campo ma manda in campo i suoi giocatori allenati preparati e tutto quanto vogliamo aggiungere le matrici hanno due quadranti banali mi viene in mente credo fosse Troisi che diceva ma è meglio essere noi un altro ma ricchi e ammalati scusate ricchi e sani o poveri e ammalati le matrici hanno un po' questo difetto quindi il quadrante in cui non c'è né orientamento al business né orientamento al risultato e alle persone è evidentemente banale come il quadrante dove io sono sia orientato al business sia orientato alle persone più interessanti sono le altre due matrici cioè quando io sono uno poco orientato al business e molto orientato alle persone io sono un leader che io chiamo amico e reputo molto pericolosa questa casella perché un leader che è molto amico trasforma l'azienda in un circolo ricreativo cioè l'importante è che stiamo bene no non è vero stare bene è importante che non vuol dire l'importante è stare bene stare bene è importante ma il nostro stare bene in azienda è finalizzato non è uno stare bene per passare il tempo è finalizzato a produrre risultati sostenibili nel tempo ovviamente l'altro leader molto attento al business e poco alle persone ha o è un leader molto fortunato che opera in regime di monopolio oppure si vedrà scappare i talenti migliori impoverirà le skill della sua azienda perché la gente non ci sta volentieri con un leader che non li valorizza e che non li fa crescere ho tracciato alcune matrici in modo molto sommario ma vorrei anche dire fare un salto avanti e dire degli ultimi dieci minuti cominciare gli ultimi dieci minuti per dire che le differenze tra leadership e management oggi sono molto più sfumate che in passato perché intanto perché da almeno 30 anni siamo immersi almeno noi che viviamo in una parte del mondo cosiddetta evoluta nella cosiddetta economia della conoscenza e allora nell'economia della conoscenza qual è il tipo di competenza più preziosa è quella implicita è quella non codificata è quella tacita è quella che la persona ti mette a disposizione solo se motivata a farlo e chi è il leader è il motivatore della squadra è quello che ti fa entrare in campo convinto che vincerai poi lo sa che su dieci partite tre o quattro le puoi perdere ma quando entri tu sei sicuro che la vincerai e quando hai perso tu non cercherai mai una scusa del perché hai perso ma cercherai di capire non dove sei stato debole tu questo è un limite negativo del leader ma cerchi di capire dove è stato più forte di te l'altro quando perdi la partita non dove sei stato debole tu mettili in positivo perché l'altro è stato più forte e come faccio io imparare da quella sconfitta un'altra cosa che rende fondamentale la leadership e che sfuma anche i confini tra leadership e management è il tema dei segnali deboli cioè oggi noi vinciamo la sfida competitiva non su dei macro segnali ma su dei segnali deboli e quindi io ho bisogno di molti sensori intelligenti dentro l'azienda io sostengo che Mario l'operaio che monta un pezzo della nostra macchina irrigatrice nei suoi quattro metri quadri è il più esperto di tutta l'azienda e lui sa che quella vite si fa più fatica a montarla e se lui non me lo dice io non riesco a risalire all'ufficio a questo dirgli guarda non è che questa vite vada male però dà più difficoltà e quindi ho bisogno che ogni persona all'interno dell'azienda sia un sensore intelligente e che mi faccia arrivare anche i segnali deboli che io non potrei vedere faccio un altro passo avanti e voglio un po' rendere meno romantica la questione del lavoro tornando al concetto che il leader come amicone che trasforma l'azienda in un circolo ricreativo non è un buon leader noi cosa stiamo chiedendo alle persone da almeno 10-15 anni di fare più cose di farle più in fretta e di farle con ambiti di incertezza più ampi gli amanti delle sigle angolsassoni che non sono io possono avere riferimento al modello VUCA ok ma far cose far più cose vuol dire essere soggetti a più fatica farle più in fretta vuol dire essere soggetti a stress farle con meno riferimenti vuol dire essere più sottoposti all'ansia un buon leader deve monitorare i livelli di fatica di stress e di ansia dei propri collaboratori e fare in modo che raramente questi livelli entrino nel campo della tossicità perché una persona troppo stanca una persona troppo stressata una persona troppo ansiosa è sorda quindi non mi manda tutti quei segnali che dicevo prima in più sta male e quindi brucia energie non mi dà positività e allora un vero leader ci tiene le sue persone allora è chiaro che un po' di fatica ci vuole perché se non hai un po' di fatica non stai facendo abbastanza se non hai un po' di stress vuol dire che te la stai prendendo troppo comoda se non hai un po' di ansia vuol dire che non stai pensando che può succedere un problema che tu oggi stai dormendo sugli allori quindi è un fatto di equilibrio tra tonicità e tossicità non per promozione perché va sicuro che non vivo di quello ma mi sono impegnato tanto ultimamente e tra poco darò le stampe alle stampe no perché è un libro elettronico darò un libro full counseling aziendale dove questi concetti li esplico anche in modo più operativo e il sottotitolo è uno slancio per migliorare il benessere delle persone e i risultati dell'azienda di nuovo la compenetrazione tra la dimensione aziendale e la dimensione personale un buon leader è colui che ha sott'occhio un cruscotto con 4P tutti noi pensiamo che le 4P siano quelle del marketing mix di Kotler ed è vero perché le 4P nascono lì però io vi propongo 4P legate alle persone quindi faccio un gioco mnemonico un buon leader deve avere chiaro le posizioni organizzative della sua azienda le prestazioni dei suoi collaboratori il potenziale dei suoi collaboratori e il potenziamento o se preferite l'empowerment delle sue persone quindi deve sapere se con tutta la subottimalità che caratterizza il nostro operare sta mettendo nella posizione migliore la persona migliore quindi se sta dando un buon equilibrio tra posizione e chi la ricopre deve sapere qual è il livello di energia di prestazione che il suo collaboratore esprime deve sapere quanta energia non tradotta in prestazioni il collaboratore ha e capire che deve usare perché il potenziale diventi prestazione e deve essere un buon formatore io Cristina direi che mancano tre minuti mi sbaglio o ci sono no no corretto ok tre minuti puoi andare puoi procedere io preferisco mantenere i tempi perché reputo i tempi un fattore di qualità a proposito di management nella puntualità delle riunioni guardate delle volte la forma è sostanza quindi il leader è anche obbligato a dare con l'esempio messaggi molto forti abbiamo detto che era mezz'ora è inutile farsi prendere e sbrodolare stiamo dentro alla mezz'ora questo è corretto quindi mi avvio le conclusioni dicendo che introducendo un altro argomento pennellandolo che è leadership e cambiamento cosa deve fare il leader bravo deve trasformare il ciclo della frustrazione nel ciclo di entusiasmo cosa significa cos'è il ciclo della frustrazione vuol dire che le persone hanno paura hanno paura del covid hanno paura di perdere il lavoro hanno paura di tante cose si sentono frustrate perché delle volte non gli riconosciamo quello che è giusto che gli riconosciamo non gli diamo i giusti riconoscimenti e si sentono giudicate in modo generico altro rischio del leader o paternalista che dà la pacca sulle spalle sei stata brava o persecutore ma da te mi aspettavo di più questo non è leadership io ti devo dire dov'è che mi aspetto di più e come e che chiavi inglesi ti do perché tu posso utilizzare di più quindi questo ciclo frustrazione paura giudizio è un ciclo che caratterizza molte aziende avvelenate fidatevi le aziende avvelenate sono molte di più di quelle che noi pensiamo e nel breve possono anche avere dei buoni risultati qual è il contrario di frustrazione è l'entusiasmo io voglio vedere della gente entusiasta in azienda porco giuda qual è il contrario della paura è il coraggio qual è il contrario del giudizio una persona che si sente giudicata non si muove invece ho bisogno di gente curiosa di gente che vada in esplorazione sapendo che anche in esplorazione rischia ma sa che io la proteggo sa che preferisco uno che sbaglia andando fuori dal suo comfort piuttosto di uno che sta lì come la rana bollita dentro la sua acqua tiepida quindi cosa fa il leader per passare da frustrazione entusiasmo da paura coraggio da giudizio curiosità il leader motiva le persone mette in moto le azioni il leader attiva il leader fa riflettere adesso vi chiedo di chiudere gli occhi non c'è nessun mago telma che vi fa degli esercizi particolari però fatemi la cortesia chiudete gli occhi e pensate alla vostra vita da non d'oltre i sette anni quindi ritornate quando avevate sette anni sei o cinque ma non non oltre non andate oltre i sette anni ci siete chiudete gli occhi e ritrovatevi in quella situazione può essere a scuola con gli amici in casa un Natale non mi importa ognuno di voi è il suo poi dopo chiudete gli occhi e pensate a una persona cara a una persona che ricordate ancora adesso quasi con emozione che vi vengono quasi le lacrime agli occhi a pensarci ecco adesso potete aprire gli occhi e questa persona avrà delle caratteristiche vi avrà accolto anche nei momenti in cui eravate più fragili si sarà preso cura di voi e vi avrà detto che eravate importanti che aveva fiducia in voi e vi spronava a far sempre cose migliori cose nuove cose straordinarie era un bravo maestro era un bravo maestro di vita era un maestro che ci teneva a voi quindi questo deve fare un buon leader deve dar delle regole deve pretendere che le regole siano osservate deve accogliere e accudire le sue persone senza sostituirsi a loro ma lasciarla anche sbagliare e deve anche introiettare nell'organizzazione quell'energia che avevamo da bambini quando se io vado in una classe di mio nipotino che ha cinque anni e chiudo davvero e chiedo bambini chi di voi sa cantare tutti ti alzano la mano e tutti vogliano cantare se vado dalla mia nipotina Beatrice che fa la quinta elementare beh qualche mano giù alla domanda chi sa cantare la vedo se vado in una riunione aziendale forse vedo una mano o due alzate allora Eric Berne che è il padre della psicologia dell'analisi transazionale diceva che noi ne siamo principi e poi la vita ci fa rospi tocca a noi tornare a diventare principi secondo un principio di responsabilità e di benessere futuro e anche di speranza futura se un leader non diffonde benessere non diffonde speranza non è un leader grazie della vostra attenzione grazie a te Lauro complimenti davvero per questa lezione che ci hai dato questa sera e io ti ho ascoltato con molta attenzione ho preso tantissimi appunti e hanno chiesto anche la bibliografia sì te la faccio avere dei prossimi dei prossimi giorni grazie perfetto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.